Ciao Ratzinger, come andiamo? Tutto bene? Come scusa? Ah, non posso permettermi di rivolgermi in questo modo a te? Ah, è una mancanza di rispetto nei confronti del Sommo Pontefice? E credimi, te lo dico con tutto il cuore, di rispetto per te ne sto usando fin troppo. Potrei esprimermi in maniera molto diversa nei tuoi confronti, ma forse poi potrebbe non essermi consentito. Potrei correre il rischio del blocco di questo video. E allora che ci sia almeno un po' di rispetto, caro Ratzinger. Tu che predichi l'umiltà, la bontà d'animo, il non apparire, devo dire che sei molto coerente nel metterlo in pratica. Certo, si è fatto tanto poco per te, per questa visita a Milano. Si è solo bloccata mezza città, si sono solo saldati i tombini, si sono solo dispiegate innumerevoli forze dell'ordine e si sono solo spese quattro milioni di euro di palco. Ah, che vuoi che sia! In fondo forse la gente non aveva poi così bisogno di questi soldi. Non era poi così necessario destinarli in opere bisognose, in aiuti umanitari, in difficoltà che si incontrano di questi periodi, di questi tempi. Tutto sommato, chi se ne frega! È così bello avere un palco dove poter apparire, dove poter coinvolgere. La tv ne parlerà, dirà che ci sono state un sacco di persone, un sacco di fedeli. Forse farai più ascolti del grande fratello. Ma alla fine rimarrà ciò che ne rimane come al grande fratello. Tutto fumo e niente arrosto. E caro Ratzinger, la realtà è proprio questa. Non si trasmette con l'apparire, si trasmette con l'umiltà. Non si trasmettono emozioni con un grande palco. Oh, certo, ne parleranno tanto, stai tranquillo. Ne parleranno anche più del dovuto, più del necessario. Proprio come succede al grande fratello. Esattamente la stessa cosa. Ma la realtà, caro Ratzinger, è ben diversa. Di vocazioni sacerdotali ne hai sempre meno. Prova a chiederti il perché? La tua mente eccelsa non arriva tanto. Strano, come mai? Ricordo, sorridendo, una delle tue prime priorità, quando diventasti Papa. Far mettere ai Bancomat del Vaticano la scritta in latino. Che bella idea geniale. Ah, senza dubbio, una grande ideona. Certo, l'umiltà del Signore la diffondi nel migliore dei modi. Forse nessuno ci è mai riuscito come te. Oh, caro Ratzinger, chissà cosa potrai pensare di me, ma ti dirò francamente che non me ne importa nulla. Sono contento di non condividere questa giornata con te. Io ho ancora la fortuna di innamorarmi di una voce, di uno sguardo, dell'aria che mi accarezza la pelle, dell'anima di una persona, della sofferenza di una persona, del gioire di una persona, di ciò che mi viene trasmesso a pelle, del canto degli uccelli, del rumore delle foglie che svolazzano col vento, del silenzio, del canto di un grillo, perfino a volte della puntura di una zanzara o del soletichio della mosca, delle parole delle persone. ma tu forse questa possibilità non l'hai più, l'hai persa, troppo impegnato nell'apparire, nello spiegare le tue complicate formule e il tuo modo di pregare. La preghiera non è complicata, è la cosa più semplice del mondo, ma tu questo non lo dai a vedere, e nemmeno i tuoi collaboratori, con le loro migliaia di concigli. Il concilio Vaticano è qua, la conferenza di là, no, non si prosegue in questo mondo. Smettetela di dare la colpa alla società, al consumismo. La gente ha aperto gli occhi, e non solo gli occhi, sta aprendo anche la mente. È finita, per voi è comunque finita. Non sarà questa apparizione a cambiare le carte in tavola, ma ciò che più conta non sarà questa apparizione a dare i risultati che voi sperate di avere. Caro Ratzinger, io sono un uomo fortunato, perché come ti ho detto in precedenza, ho ancora la possibilità di amare ciò che amo, e di provare ciò che ti ho appena spiegato. Tu forse no. Io ho ancora la possibilità di gioire, e di soffrire. Tu forse no. È il più fortunato tra i due. Comunque vada. Credimi, sono io. Ciao Ratzinger, mi auguro che lo spettacolo riesca nel migliore dei modi. Mi auguro che i media ne parlino tantissimo, ancor più di quel che io penso. Ma il risultato non ci sarà. Almeno il risultato che vuoi ottenere tu. Ma mi pongo un'altra domanda, dove purtroppo non avrò risposta. Il risultato che tu vuoi ottenere è veramente quello che vuoi far credere a noi? Oppure il risultato che tu vuoi ottenere è semplicemente quello che otterrai, e non quello che vuoi far credere a noi? Lo so, è una domanda che non avrà risposta a questa. Ci sarà tanta folla, un'innumerevole folla di persone, un numero di persone, ma quante saranno? Tante migliaia, tante milioni di persone. E come lo giustifichiamo a questo fatto? Allora sono io l'unico pazzo che non ti crede? Sono io l'unico pazzo che va controcorrente, contro le migliaia di persone che verranno a vederti? La risposta è presto data. Se ci sono ancora persone che credono nei nostri politici, è normale che ci siano ancora tante persone che credano in te. I media fanno la loro parte, e la sanno fare ancora abbastanza bene. Ecco la risposta. Io te l'ho data. E tu me la darai una risposta. Ciao Ratzinger. Buona permanenza in Lombardia. Buon spettacolo. Buona apparizione. Non so dirti altro. Ciao. Ciao.